Benvenuti da Tim Burton e da Jonathan Ritchie. Bentornati al viaggio nella storia americana. Nelle due precedenti puntate abbiamo parlato di Colombo e di Jamestown, nei limiti del possibile, perché ci sarebbe molto di più da dire. Oggi esploriamo la storia di Plymouth. L'ultima volta abbiamo parlato della prima colonia inglese di Jamestown e abbiamo evidenziato diversi suoi fallimenti. Benché fosse stata fondata come colonia per la libertà religiosa, molti coloni non avevano necessariamente motivazioni religiose, ma economiche o altre, e vivevano secondo la Bibbia solo a parole. Ma c'era anche chi non solo credeva nella Bibbia, ma la leggeva e la seguiva, e cioè i pellegrini, che arrivarono a Plymouth nel 1620. Sì, ed è interessante che non era intenzione dei pellegrini andare a Plymouth. Anzi, secondo la concessione del re, dovevano andare nella colonia di Jamestown, ma una tempesta li deviò a nord. I pellegrini erano proprio una congregazione ecclesiastica. Erano una chiesa che credeva sinceramente in Dio, secondo i dettami della propria coscienza. A quel tempo, soprattutto in Europa, quando un re sceglieva una religione, spesso la rendeva la confessione ufficiale. E chi non ci credeva, veniva punito. I pellegrini si trovavano in Inghilterra, cioè in una colonia anglicana, ma avevano un'idea diversa della religione rispetto agli anglicani. Avevano subito una persecuzione, al punto che erano fuggiti in cerca di un posto dove avere più libertà religiosa. Ed erano andati a finire in Olanda. L'Olanda era una specie di nazione laica, ma in quel periodo aveva buone relazioni con l'Inghilterra. I pellegrini avevano pensato di potersi integrare in Olanda e rimanervi per diversi anni, ma quando iniziarono a esprimere le proprie idee religiose, ricevettero un'opposizione causata dal re d'Inghilterra. Esatto. Alcuni leader dei pellegrini, in particolare William Brewster, avevano stampato dei libri che trattavano delle loro idee religiose, e li facevano rientrare di nascosto in Inghilterra, per continuare il lavoro di purificazione della chiesa d'Inghilterra. Ma il re inglese lo scopre. E ovviamente non è affatto contento, perché questi libri denunciano varie cose che lui, cioè la chiesa d'Inghilterra, sta facendo. Ma non sa chi siano gli autori dei libri. William Brewster e i pellegrini, non avevano certo stampato i propri nomi. Per cui, per un paio d'anni, il re manda i suoi agenti in giro per l'Europa per individuare l'origine di questi libri. Nel 1618-19, il re capisce che sono i pellegrini rifugiati in Olanda, e quindi fa pressione sull'Olanda affinché gli consegni William Brewster e i suoi collaboratori. E questo fa capire ai pellegrini che, nonostante non siano più in Inghilterra, non sono ancora fuori dalla portata della chiesa inglese. In Olanda i pellegrini avevano una macchina da stampa, ma non fu distrutta. Però tutti gli strumenti di cui avevano bisogno per stampare, come i caratteri tipografici, furono sequestrati, per impedirne l'uso. I pellegrini, a questo punto, si rendono conto che devono trovare un posto dove poter vivere secondo la propria coscienza religiosa. E pensano al nuovo mondo. Anche se c'erano già delle colonie inglesi. E anche se erano diretti a Jamestown, pensavano che forse sarebbero stati abbastanza lontani dall'Inghilterra da poter avere un po' di tregua. E così tornano in Inghilterra. Prendono due navi, la Mayflower e la Speedwell, e portano la loro congregazione ecclesiastica in America. La Speedwell, poco tempo dopo aver lasciato l'Inghilterra, imbarca acqua, per cui tornano a terra per ripararla, e poi ripartono. Ma nella Speedwell si apre un'altra falla, e la stagione per la navigazione sta finendo, perché non si tratta di un viaggio sotto costa. E si rendono conto che, se continuano ad aspettare la Speedwell, non ce la faranno mai entro la stagione. Così decidono di far partire solo la Mayflower, e che il resto delle persone li raggiungerà successivamente. E quindi la Mayflower parte. E si portano dietro la macchina per stampare che avevano usato in Olanda. Poi, mentre stanno arrivando in America, alla fine della traversata atlantica, incontrano un'enorme tempesta che danneggia la chiglia della nave. La chiglia è come la spina dorsale della nave. Se si spacca del tutto è finita. Non esiste più modo di navigare. Insomma, è una situazione disperata, non hanno come ripararla. Però hanno la macchina da stampa. E la parte più importante di una macchina da stampa è una specie di grossa vite senza fine, che loro usano a mo' di supporto per la chiglia, riuscendo a fissarla. E questo permette loro di terminare il viaggio verso il nuovo mondo. Se non si fossero provvidenzialmente portati la macchina da stampa, che era comunque inservibile dai tempi dell'Olanda, probabilmente sarebbero affondati. Nella storia dei pellegrini c'è una serie di avvenimenti che possono solo essere o coincidenze assurde o interventi divini. Per esempio, durante il viaggio ci sono tempeste enormi praticamente tutti i giorni, che costringono sotto coperta la maggior parte dei pellegrini, i quali ovviamente diventano claustrofobici. Uno, John Oland, decide di salire sul ponte e, nel pieno della tempesta, viene colpito da un'onda e sbalzato in mare. E a quel tempo sapevano nuotare in pochi, non era una cosa comune. I bambini non prendevano lezioni di nuoto e non si andava al mare in estate. Tornando a John Oland, si ritrova in mare. E questo è un antico veliero, è impossibile tornare indietro velocemente per recuperarlo. Ci sarebbe voluta una manovra lunghissima. Insomma, Oland è spacciato. Ma si dà il caso che la Mayflower si trascini dietro una corda. Oland riesce ad afferrarla e gli altri lo tirano di nuovo a bordo. E John Oland è importantissimo, perché l'America ha avuto oltre un milione di persone suoi discendenti, tra cui Franklin Delano Roosevelt, la famiglia Bush, e poi star del cinema come Humphrey Bogart, Chevy Chase e i fratelli Baldwin. Se John Oland fosse morto in mare, quelle persone non sarebbero mai esistite. L'avventura dei pellegrini è incredibile. Nella miriade delle loro difficoltà, ci sono tanti momenti in cui si vede la mano di Dio che li aiuta. I pellegrini cercano di raggiungere la zona di Jamestown, in Virginia, dove il re ha più o meno concesso loro della terra per fondare la loro colonia. Ma a causa del cattivo tempo, tipico di quel periodo dell'anno, finiscono fuori rotta di oltre 160 chilometri, nell'area dell'odierno New England, in particolare in Massachusetts, in un luogo chiamato Plymouth. Qui facciamo un passo indietro. Il capitano John Smith era il governatore, e in seguito all'esplosione di Jamestown, deve tornare in Inghilterra per guarire. Ma quando si riprende, torna ed è lui a guidare l'esplorazione di questa zona del New England. È stato lui a dare alcuni di questi nomi della vecchia Inghilterra. Quindi è grazie a John Smith che i pellegrini sapevano che c'era un luogo conosciuto, in cui avrebbero potuto stabilire una colonia. Esatto. Ma poiché si trovano al di fuori della concessione originale del re, alcune persone a bordo dicono che in mancanza di leggi potevano fare come volevano. I pellegrini però, essendo un popolo religioso, dicono che questo non è corretto. Così si riuniscono e concordano nello stipulare un patto politico con il consenso di tutti. Uno dei membri, William Brewster, lo stesso che aveva portato con sé la macchina da stampa, era l'unico a bordo ad avere una qualche istruzione universitaria. Si pensa quindi che sia stato nominato lui per scrivere lo statuto di questa nuova colonia. E così nasce il patto del Mayflower, il primo documento di governo del nuovo mondo. È uno dei momenti più importanti della storia americana, perché tutti i documenti precedenti per le colonie inglesi erano stati scritti in Inghilterra. Ma questo è letteralmente il primo documento scritto in America. Come importanza, siamo al livello del discorso di Lincoln a Gettysburg. Eh sì. Una delle cose più interessanti è che abbiamo molti manufatti dei pellegrini, dei puritani, di Jamestown, della prima storia americana. Questo è un pezzo unico, visto di chi stiamo parlando. Esatto. Questo è un frammento del baule da viaggio che William Brewster aveva con sé sulla Mayflower. Gli storici ritengono improbabile che Brewster avesse uno scrittoio, quindi è probabile che abbia scritto il patto del Mayflower sopra quel baule. E quando tutti gli uomini sulla Mayflower si riunirono per firmare il documento, è probabile che l'abbiano firmato proprio sopra quella cassa. Quindi le fondamenta dell'idea di autogoverno americano, dei diritti individuali, delle libertà, della sovranità personale, risalgono a ciò che è stato fatto sopra a quel pezzo di legno. E l'idea del patto della Mayflower e che si mettono insieme, si identificano nella gloria di Dio e nell'avanzamento della fede cristiana. E Bradford, ancora prima di arrivare al patto della Mayflower, parla di alcune delle idee che avevano a riguardo. Esatto. William Bradford, uno dei pellegrini e mentore di William Brewster, diventa in seguito il loro governatore più importante. Non il primo, ma è lui che li guida per i 30 anni successivi. È responsabile della stesura di questo libro, che è il miglior libro di storia che abbiamo sui pellegrini. È una fonte primaria che spiega quali furono i loro pensieri nel loro viaggio. Bradford scrive che i pellegrini avevano una grande speranza, un fuoco interiore, di gettare delle buone fondamenta per propagare il Vangelo del Regno di Cristo in quelle parti remote del mondo. Insomma, si consideravano i pionieri nel nuovo mondo, con lo scopo specifico di diffondere il Vangelo e l'idea della libertà religiosa, sia per se stessi che per gli indigeni, e le altre persone che sarebbero arrivate in seguito. Sì, e quindi non c'è da sorprendersi che i pellegrini fossero conosciuti come il popolo del libro. E il libro in questione era la Bibbia. Questa è una Bibbia di Ginevra del 1590. Nella parte anteriore è scritta a penna d'oca la genealogia della famiglia, una delle famiglie puritane che l'ha portata in America. Quindi questa Bibbia è stata largamente influenzata dalla riforma, che è stata l'occasione per tornare alla Bibbia come guida di vita. Ci sono commenti sui margini laterali del libro che spiegano come utilizzare gli insegnamenti della Bibbia nella vita quotidiana. Questo è esattamente quello che fecero i pellegrini per dare forma alla loro cultura e alla loro colonia nel nuovo mondo, a Plymouth. L'idea dei pellegrini si può vedere innanzitutto nel loro stesso viaggio. Dio li ha tenuti al sicuro, li ha aiutati ad arrivare in America col minimo indispensabile. Ecco perché erano così diversi dalla colonia di Jamestown, che era stata fondata come una colonia religiosa, ma non da persone che davvero credessero in Dio. Per i pellegrini, invece, questo era l'aspetto fondamentale della loro vita. Giusto. E anche quando si guarda il loro primo codice legale, si trovano riferimenti alla Bibbia ovunque. E le prime parole del patto della Mayflower sono, nel nome di Dio, Amen. Fin dall'inizio, i loro pensieri sulla società civile sono tutti radicati nelle scritture. E a proposito della loro mentalità a livello di società, sappiamo che i pellegrini ebbero una delle migliori risposte rispetto all'idea di uguaglianza, ossia il fatto che siamo tutti fatti a immagine e somiglianza di Dio. A prescindere da come siamo fatti, dal colore, dall'etnia e dalla nazione di appartenenza. Per questo avevano ottimi rapporti con i nativi americani, gli indiani. Uno dei primi nativi americani che incontrano è Samoset, che parla un po' di inglese. Loro rimasero scioccati, perché pensavano di essere sbarcati in una terra selvaggia, e che non ci fosse nessuno. E invece uno dei primi nativi che incontrano parla in inglese. Samoset dice loro che vuole presentarli al capo, che li aiuterà a risolvere la situazione con quest'altra tribù. Incontrano quindi il capo Massasote, il leader degli indiani Wampanoag, una popolazione nativa molto numerosa a quel tempo negli stati del New England. Uno dei nativi arrivati con il capo Massasote era Squanto, che salvò letteralmente i pellegrini, perché quel primo inverno fu molto duro per loro. Loro avevano programmato di arrivare mesi prima, invece erano arrivati nel New England in inverno, c'era la neve. E quasi subito la gente cominciò ad ammalarsi. Sì, in quel primo inverno, praticamente la metà dei pellegrini morì. E tra quelli che sopravvissero, molti erano malati. Bradford scrive che vi furono solo 5 o 7 uomini in grado di andare a caccia, di costruire capanne e ripari, e di procacciare cibo e risorse per gli altri. Insomma una condizione disastrosa, simile a quella vissuta dagli abitanti di Jamestown. Ma i pellegrini ebbero una risposta molto diversa, sia per quanto riguarda il modo in cui trattarono gli indiani, sia nel rapporto tra di loro. Nella storia di Squanto c'è davvero molto. Noi nella storia americana ne sappiamo poco, ma la figura di Squanto va approfondita, anche per come Dio si è servito di lui in modi davvero straordinari. Squanto si rende subito conto che i pellegrini non ce la fanno. Hanno bisogno di aiuto. Di molto aiuto. E quindi lui insegna loro a pescare, a cacciare e a sopravvivere nel nuovo mondo. E non è azzardato dire che senza Squanto, i pellegrini non ce l'avrebbero fatta. Poi, nel 1621, i pellegrini sono arrivati da circa un anno, e grazie all'aiuto di Squanto hanno imparato a coltivare. Ora sono pescatori e cacciatori migliori. Decidono così di riservare un giorno per pregare, e per ringraziare Dio della sua benedizione nella loro vita. Certo non erano ricchi, ma nulla a che vedere con l'anno precedente in cui la gente moriva di fame. Decisero allora di invitare i loro amici nativi americani. Il capo Massasot porta con sé 90 guerrieri indiani. E, fortunatamente per i pellegrini, non dovettero provvedere a tutto il cibo, perché gran parte lo portarono i nativi americani. I pellegrini prima si presero del tempo per ringraziare Dio, poi fecero un banchetto di tre giorni con i nativi americani. E giocarono. La tradizione americana degli sport e degli eventi atletici risale ai padri pellegrini. È importante ricordare che dopo il primo inverno, i pellegrini erano rimasti in pochi, e non c'erano molti uomini capaci. C'erano 53 pellegrini presenti al primo giorno del ringraziamento, come identifica la Plymouth Historic Society. Ma di quei 53 pellegrini, pochi erano uomini adulti. E quando il capo Massasot arrivò con 90 prodi indiani, erano tutti guerrieri. A volte oggi si dice che i pellegrini, proprio come molti altri americani, erano cattivi e malvagi, e che rubavano la terra agli indiani. Ladri di terra, assassini genocidi. Ai pellegrini vengono rivolte le stesse accuse fatte a Colombo. Ma al primo ringraziamento ci sono 90 indiani guerrieri e poco più di 50 pellegrini religiosi, ancora un po' malaticci, tra uomini, donne, bambini, e molti degli uomini erano anziani. Se gli indiani non avessero gradito la presenza dei pellegrini, avrebbero potuto facilmente farli fuori. Ma non lo fecero, perché erano amici. E in effetti, il rapporto tra gli indiani Wampanoag e i pellegrini è praticamente il migliore della storia coloniale. La pace tra loro dura oltre 50 anni, e non viene nemmeno rotta dai pellegrini. A romperla sono gli indiani, le generazioni successive al capo Massasolt. I suoi discendenti ritennero che i cristiani stessero convertendo troppi di loro, e di dover fermare questa cosa. Quindi attaccarono i pellegrini e gli altri abitanti del Massachusetts. Ed è questo che rompe il trattato di pace originale. Volevano fermare l'espansione del cristianesimo. Ma tornando ai pellegrini, al patto della Mayflower, un motivo per cui erano venuti, era la gloria di Dio e la diffusione della fede cristiana. Quindi avevano sicuramente dei missionari che andavano dai nativi americani. E questi cristiani videro che fra i nativi dell'epoca c'erano tribù guerriere molto bellicose, che a volte avevano comportamenti barbari, che includevano atroci torture sui prigionieri. I pellegrini, i cristiani, dissero che loro non facevano più quelle cose alle persone. Invece Re Filippo, che era il capo indiano il cui vero nome nella loro lingua era Metacon, disse, siamo stanchi di questi che cambiano le cose. Vogliamo liberarci di questi cristiani. Oggi si dice che i pellegrini rubarono molte loro terre. Ma questo è storicamente falso. E lo dimostreremo successivamente, esaminando alcuni trattati di terra stipulati tra alcune di queste colonie cristiane, e alcuni nativi americani. Ma il punto è che ai nostri giorni, proprio come Colombo e molti altri, i padri pellegrini vengono diffamati sulla base di falsi storici. E se non si conosce un po' di storia, si perde la reale prospettiva dei fatti. Esatto. E parlando dell'idea del progetto 1619, che l'America sarebbe fondata sulla schiavitù, l'ultima volta abbiamo parlato di come la storia di Jamestown sia stata completamente falsificata dal punto di vista storico. Ma quanto a Plymouth, la questione della schiavitù è completamente diversa. Infatti, abbiamo uno dei loro primi codici giuridici, dove è prevista anche la pena capitale per quello che chiamano furto di uomini. E accanto a questa legge vi è una citazione di un versetto della Bibbia. Perché quando i pellegrini iniziano a stabilire le proprie leggi, leggono la Bibbia e cercano quale sia il principio alla base. Siamo tutti creati uguali a immagine di Dio, e Dio vuole che siamo liberi. E poi la regola aurea. Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. E i pellegrini iniziano a stabilire queste leggi che di fatto contrastano la schiavitù. Quindi, quando a Plymouth arriva la prima nave di schiavi, loro imprigionano i negrieri, liberano gli schiavi e iniziano a raccogliere fondi per rimandarli in Africa. Quindi Plymouth è completamente diversa da Jamestown. Ed è per quella legge che imprigionarono il capitano della nave e l'equipaggio. Il primo carico di schiavi arrivò nel 1646. Quella legge era del 1641. Quindi, diversi anni prima che a Plymouth avessero a che fare con la tratta degli schiavi, avevano già approvato una legge che dimostrava la loro consapevolezza della tratta, e che non volevano che ci fosse anche da loro. Ora, questo non significa che gli abitanti di Plymouth non abbiano commesso errori, ovviamente. La realtà, però, è che spesso la storia americana non viene raccontata in modo onesto. Come l'idea che tutta l'America sia stata plasmata su Jamestown. Dopo la guerra civile fu realizzata una mappa che indicava l'influenza di queste due colonie. Infatti, questa che abbiamo qui è stata pubblicata nel 1888, poco dopo la guerra civile, ed ha una rappresentazione generale del conflitto e della storia americana in generale. Si vede che la storia dell'America può essere raccontata come una sorta di storia di due città. Qui c'è Plymouth, fondata sulla Bibbia, come dicevamo. Ma Jamestown, in Virginia, venne fondata sul denaro, non sulla Bibbia. Ed ha questi seminacquero alberi e frutti molto diversi. Da Plymouth si sviluppa questo albero, con scritto, la benedizione di Dio per la libertà. E ha tutti questi frutti lungo i rami, cioè gli stati liberi che raccolsero l'eredità di Plymouth. E poi, qui sotto, c'è la maledizione di Dio sugli stati schiavisti della guerra civile. Una conseguenza di alcuni errori che Jamestown commise all'inizio della sua storia. Una delle cose che ritengo più significative di questa mappa, è che mette in evidenza che la stragrande maggioranza dell'America non venne influenzata da Jamestown, ma da Plymouth. Oggi si sente dire che l'America è fondamentalmente malvagia a causa della schiavitù di Jamestown. Questo storicamente è falso. È veritiero dire che l'America è stata influenzata da Plymouth, molto più che da Jamestown. Infatti. Ma se si promuove una certa linea, se non si vuole essere storicamente onesti, è facile cambiarla per adattarla al proprio scopo, il che purtroppo oggi è molto frequente. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Noi vi incoraggiamo a cercare altri dettagli della storia e a farlo attraverso i documenti originali. Per oggi è tutto. Ma vedremo molto altro nella prossima puntata della storia americana. Io sono Tim Burton. E io sono Jonathan Richie. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.